per tutti ragazzi spariamoci un'altra partitozza bullet force però oggi volevo fare una cosa allora volevo fare il gioco delle armi ok andiamo subito a farci una partita multigiocatore e non guardiamoci questa cosa adesso e andiamo a spararci subito il gun game ok ragazzi siamo l'aperto cominciamo con la g18 una pistola con delle raffiche stupende tra l'altro ok cominciamo subito partita appena cominciata di fronte a noi il nostro primo nemico lo secchiamo attenzione perché ce n'è un altro che ci sta già sparando che sta facendo il giro del gippone eccolo dietro di noi ce sono ovunque ragazzi comunque stiamoci attenti attenzione torniamo nuovamente in battaglia proviamoci eccoti qua eccoti qua eccoti eccoti no ragazzi porca miseria ho fatto già due morti o una non mi ricordo due morti e zero uccisioni al momento o una allora guardiamo bene eccolo qua il primo ragazzi eccolo eccolo uccisione va bene andiamo avanti vorrei provare più armi possibili ragazzi sinceramente allora vorrei provare anche il cecco attenzione attenzione seguiamo questo ma ci l'arma successiva attenzione di fronte a noi di fronte a noi uccisione tra l'altro con mirino coyote un mirino che adoro mi hanno consigliato nei commenti e da quando lo uso sinceramente è veramente formidabile sto mirino comunque torniamo in battaglia attenzione vediamo cosa riusciamo a combinare ok sono ovunque stiamoci attenti di fronte a noi uccisione passiamo all'arma successiva oppala di fronte a noi attenzione uccisione siamo già a 5 uccisioni ragazzi allora vediamo dove siete ragazzi eccoti eccoti altro uccisione cambiamo nuovamente arma ragazzi ok controlliamo bene la situazione facciamoci una bella scampagnata anche da queste parti che ogni tanto riusciamo a prendere un attimino fiato perché di solito lì dietro non c'è molta gente di solito lì dietro c'è tanta gente sempre qui imboscata dietro all'hammer ma attenzione controlliamo bene che non arrivi qualcuno di fronte controlliamo eccoti qua eccoti qua eccoti uccisione attenzione c'è un altro imboschiamoci lo prendiamo si è abbassato e furbacchiotto t'ho preso ok utilizziamo il drone sono nemici ovunque attenzione oppala uccisione oh cazzo ok siamo 9 uccisioni 4 morti siamo con la fama stra l'altro con un bel mirino tosto che riusciamo a zoomare a distanza infatti vediamo di riuscire a fare qualche uccisione a distanza visto che abbiamo la possibilità con questo super mirino eccoti qua oppa per pochissimo carichiamo l'arma attenzione che c'è qualcuno che sta arrivando eccolo qua eccoti 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 attenzione attenzione no cacchio mi sparano da dietro stavamo facendo un bel duello uno contro uno porca miseria si è presentato questo qui all'improvviso si è unito alla festa senza invito ok andiamo qui sopra visto che abbiamo un bel mirino un mirino bello tosto oppa là ecco mi ha fregato con una scaracca tra l'altro mi ha fregato è ancora lì che spara non sa neanche lui cosa sta facendo secondo me ok va bene torniamo nuovamente in battaglia disturbatore in azione da parte del nemico eccoti qua oh cazzo preso abbiamo una pistola in questo momento cacchio e io con le pistole non è che vado fortissimo proviamoci lo stesso vediamo eccoti qua il primo uccisione un altro che sta sparando carichiamo l'arma non facciamo in tempo anche se ci imboschiamo siamo a 11 uccisioni ragazzi compact 45 l'arma in questione la nostra pistola eccoti qua eccoti qua uccisione cambiamo arma nuovamente allora eccoti qua oh cecchino ragazzi preso da destra ci sparano e beh col cecchino è tosta però non è tanto difficile sinceramente da utilizzare adesso ci riproviamo vediamo se troviamo qualcuno a distanza vediamo se troviamo qualcuno allora usiamo il drone innanzitutto per disturbare il nostro nemico eccoti qua vai attenzione non abbiamo seccato noi vieni qua vieni qua attenzione non abbiamo seccato noi neanche questo secondo me stiamoci attenti oppa la oh cacchio attenzione attenzione ci seguono secondo me c'è qualcuno che ci sta seguendo controlliamo dall'altro lato eccoti qua oh ragazzi ma riusciamo a spararlo questo uccisione ce l'abbiamo fatta senza mirare non volevo distogliermi troppo con la mira ok abbiamo cambiato arma bello sto mirino ragazzi uccisione carichiamo l'arma entriamo dentro al container per ripararci un pochettino vediamo che abbiamo un nemico subito qui di fronte a noi che viene sparato da questo che gli diamo il benvenuto adesso siamo di bazooka è il che non è per niente facile riuscire a utilizzare il bazooka così e bazooka usato così contro i nemici e non contro i mezzi di trasporto è un po' più difficile comunque proviamoci lo stesso ragazzi speriamo di riuscire a fare qualcosa perché se no qui se ce la dobbiamo fare tutta di bazooka un bel casino eh allora vediamo oh c'è qualcuno qui dentro dai ah era il mirino quello non me ne sono neanche reso conto attenzione davanti a noi gli mandiamo un silurotto che cacchio è successo si è oscurito tutto ok torniamo nuovamente in battaglia vediamo attenzione attenzione ragazzi che qui la questione diventa più difficile allora cucciamoci un attimo qua imboscandoci un po' camperiamo un pochettino e proviamo in questo modo se riusciamo a prendere qualcuno che passa tipo questo ma non lo becchiamo lo seguiamo ragazzi attenzione ce n'è uno qui dietro preso ecco giusto quelli i bersagli fermi riesco a prendere questo coso faccia a faccia proviamo ad andare qui dentro se c'è qualcuno eccoti 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 attenzione bazookata non ce la facciamo cacchio ancora di bazooka dobbiamo andare avanti qui ragazzi voglio cambiare arma assolutamente bazookata preso cambiamo arma perfetto attenzione di fronte a noi per poco spara veramente lenta quest'arma avete notato magari sarà letale che avrà sicuramente dei proiettili potentissimi io non la conosco quest'arma adesso però spara veramente lenta uccisione cerchiamo l'arma da dietro ci sparano siamo a 19 uccisioni e siamo a un terzo posto al momento vediamo allora eccoti qua uccisione ecco che c'è qualcuno col bazzucco oh abbiamo un bel pistolone adesso ragazzi vieni qua oh no da dietro porca miseria è arrivato il cecchino torniamo nuovamente con la nostra super pistolona era più grande di un fucile porca miseria attenzione eccoti qua eccoti qua eccoti qua eccoti qua eccoti qua carica l'arma attenzione ma questo non ci ha visto proprio non ci ha visto ma non muore duro a morire e chi sei diehard ok attenzione ci sparano da dietro andiamo a imboscarci subito di fronte a noi secchiamolo subito e cambiamo nuovamente arma siamo a 22 uccisioni al primo posto abbiamo 26 uccisioni del nemico più più tosto in questo momento ok va bene spostiamoci da questa zona ragazzi vediamo se c'è qualcuno da queste parti eccoti qua vediamo se facciamo in tempo ma era come spara lenta quest'arma ragazzi ok va bene m200 riproviamoci ragazzi ma che cacchio sta combinando quest'arma ah proprio scarrella ogni volta che spara bruttissima bruttissima questa non mi piace ragazzi sinceramente non mi piace qua bisogna essere veramente precisissimi guardate c'è proprio questo l'abbiamo preso ok qui dietro c'è un altro ragazzi da fronte a me ce n'è un altro ancora dai sparalo che così ci cucchiamo un'arma diversa dai porca miseria 23 uccisioni siamo a un terzo posto 17 morti per il momento siamo ancora in positivo per il momento ok 26 uccisioni il primo posto ormai la partita sta quasi per terminare abbiamo 3 punti di differenza porca miseria potremmo anche migliorare eccolo lì in fondo vediamo preso ok si cambia l'arma attenzione attenzione andiamo qui dietro oppa la bella sbazzucatina con un lancia granate ci sparano da dietro attenzione vediamo se becchiamo questo uccisione preso ok siamo a 25 ragazzi un solo punto di differenza vai vai che ce la possiamo fare volendo ragazzi si è fermato a 26 già da un po' speriamo che non aumenti all'improvviso si vede che anche lui avrà beccato un'arma di quelle schifose da usare e chiaramente si è fermato un attimino qui dentro chi c'è? c'è qualcuno? o forse qui sopra oh oh c'è qualcuno qui proviamola in fondo ragazzi ok carica l'arma e esce allo scoperto ci proviamo ragazzi ok preso cambiamo arma siamo con un bel fucilone torniamo qui dentro 26 a 27 ragazzi stiamo per completare la partita dai che ce la possiamo anche fare volendo uccisione 27 a 27 ragazzi via che si va attenzione di fronte a noi dai che ce la fai siamo a 28 oh là siamo a 29 ragazzi abbiamo un punto di differenza dall'avversario carichiamo l'arma al volo eccoti qua no porca miseria 30 si arriva a 32 forse perché c'era un pareggio in atto ok lanciamo il drone immediatamente andiamo alla riscossa andiamo alla riscossa ragazzi attenzione un attimo di suspense uccisione va benissimo oh di coltello no cacchio coltello è la fine ragazzi di coltello l'ho ammazzato ragazzi l'ho ammazzato di butterfly attenzione ne abbiamo uno qui dietro vediamo se lo cogliamo all'impreparato vai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua attenzione non scappare non scappare preso preso ragazzi uccisione siamo 31 a 31 si arriva a 32 attenzione manca l'ultimo punto controlliamo bene il nemico dov'è eccolo qua 31 a 31 si arriva a 32 partita sta quasi per cominciare abbiamo il butterfly ok dobbiamo cogliere il nemico impreparato eccoti qua no cacchio per pochissimo attenzione ragazzi manca poco manca poco dai che ce la puoi fare di flu vai che ce la puoi fare finita partita terminata a primo posto abbiamo fuck ok secondo posto noi con 32 uccisioni 21 morti direi che ci siamo comportati abbastanza bene divertentissimo ragazzi il gioco delle armi è veramente divertentissimo comunque round completato siamo al rank 14 forse siamo passati al 15 perfetto con 4518 punti esperienza in più e abbiamo siamo arrivati a 14.235 credit che tra un po' ragazzi siamo pronti per fare per aggiungere qualche pezzo alla nostra scaracca ok ragazzi partita terminata grazie a tutti per il vostro ascolto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti